Musica! Allora, ti ricordi della nostra lotteria per la quale abbiamo messo in palio 500 euro? Ebbene, sta per scadere! Giovedì 30 giugno estrarremo 31 numeri e tra questi ci può essere il tuo! Approfitta degli ultimi giorni per accapararti ancora altri biglietti, poiché normalmente sono proprio quelli dati per ultimo che vengono estratti per prima. Con acquisti di almeno 10 euro puoi vincere molto, molto di più!